Anziani e disabili meno soli e più protetti. La tecnologia scende in campo per aiutare chi ha bisogno ed è importante sottolineare che lo sforzo arriva dalle idee di ricercatori baresi. Grazie a safe control saranno sperimentati ad esempio sensori georeferenziali per chi affetto dal morbo di Alzheimer che permettono la localizzazione delle persone, sensori per il rilevamento del battito cardiaco, allarmi per ricordare l'assunzione di medicinali. Uno spin-off, come si dice in questi casi, una nuova tecnologia proposta dal Politecnico di Bari in collaborazione con altri soggetti tra cui Conf Cooperative Puglia, la cooperativa GEA e le associazioni Anteas e lo Specchio. L'idea ha vinto il bando Progetti Innovativi 2010 di Fondazione con il Sud e sarà finanziata per 24 mesi per 300.000 euro. In questi due anni le apparecchiature saranno utilizzate in forma sperimentale da numerosi anziani. Una centrale operativa sarà il terminale di tutte le segnalazioni. Si vuole coniugare la parte emotiva ed affettiva dell'assistenza con la parte tecnologica proprio per dare una possibilità di vita migliore agli anziani che spesso restano soli.